Ok, ascolto, ok ragazzi sono, nel 2007 ed oggi siamo soli, chiamati un Spider-Man 2. Sì, non c'è nessuno, hai ragione? Non perdere il suo sole, assolutamente, ma non c'è nessun tempo, non c'è nessun tempo, non c'è nessun tempo, non c'è nessun tempo, non c'è nessun tempo. Sì, non c'è nessun tempo, 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 non c'è nessun tempo. Siamo in un bel carattolo. E' un'altra cosa che succede nel quadro del padre. E' un po' che ti piace, perché? È una casa persona, sai? Vuole da te, per te, per te. Sì, così ti si unirà. Insomma, si può saperti cosa c'è che non va all'osco? Credo che lo spiega in un'altra cosa, c'è anche il ciò. E' un'altra cosa che ci fa a stare. Cosa ti fa? Bella, no? Voglio migliare oggi, diciamo, nel mare. Io so. Ma ci cosa deve fare? No, non è un'altra cosa che ci guarda. No, non ho. No, non è un'altra cosa che ci guarda. Sì, non è una cosa che ci guarda. Sono più amata più attima. Ma c'è questo male, è un po' di neri. Allora, non ho mai. Allora, adesso è sempre più attrazione. Ok, basta. Wow, dica la sera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.